musica 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 ehi Enrico chissà come sono i pop corn al burro non l'ho mai provati secondo me sono proprio grassi musica ma deve anche questa legge quella della trottura non è uscita ma si quella sull'arma costituzionale del decreto registrativo si la legge ma non si può ma senti fa sempre favore alla dialogificazione di quell'articolo ma si è un comportamento che mi sembra civile corretto che possa servire al sistema ma si ma stoo 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 queste cose ma no comunque qua me legnano e l'arancia costano molto di meno che ammasate ma se favo io e allora se tu mi... Marco vieni qua su vado a preparare il caffè vieni cosa ne pensi Marco 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 ciao ciao come è possibile io non lo so no secondo me è un criterio giustissimo per un sistema che deve essere integrato in questa maniera questo è sui mese soggetti infatti guardi pio secondo me allora se non è finita sul gazzetto e pinza non può eserci marco se stiamo così è adesso scusate è un livello sempre più corretto se il senato non ha approvato una cosa non è che lo so ma tu Marco Marco Cos'hai più? Secondo te? Secondo me c'ha ragione Don Antonio! Ma come? Vai a dire queste cose! Quindi dai, ragionano! Come te ho, come te ho! Tu hai anche ragione Padre Enrico! Ma no, ma no! Non ti dico che non c'è più un po' di lei! Poi tu, poi tu, poi tu! E' il caffè! Beh! Forse, ho avuto un po' troppo caffè!